Vado da Edo Ronchi, vorrei farle la domanda partendo da questo, in fondo, magari sbaglio lei adesso mi darà la sua opinione, dai paesi del Golfo al Mediterraneo, sì ci sono le contrapposizioni tra sciiti, sunniti, però a dominare è ancora il controllo delle risorse energetiche del petrolio, cioè la geopolitica la fa ancora il petrolio? Beh, indubbiamente il petrolio è una risorsa importante e quelle aree, circa l'80% dell'energia mondiale è fossile, di questo 80% più di un terzo è petrolio e quindi in quella regione le risorse energetiche petrolifere e non dimentichiamo anche il gas hanno un ruolo strategico importante ridurre la dipendenza dal petrolio e dai combustibili fossili diventa una ragione in più, oltre che ambientale, ai fini di ridurre la dipendenza da queste regioni e quindi ridurre i motivi di, diciamo, di conflitto. Però, perché lei dice ridurre ci potrebbe anche mettere a riparo dai conflitti per il petrolio, però la dipendenza dal petrolio, qualcuno dice, eh sta diminuendo la dipendenza, è così vero? Forse no. Beh, insomma, la diminuzione è in atto, rimane una delle fonti energetiche principali, però c'è una crescita degli investimenti nelle rinnovabili e nell'efficienza energetica è innegabile. Del resto il cambiamento climatico, non l'ho mica inventato io, è un dato di fatto che sta pesando in maniera rilevante a su scala globale in molti paesi e il cambiamento climatico deriva dall'utilizzo dei combustibili fossili, fra i quali certamente il petrolio non è secondo solo al carbone come emissioni di gas serra. Sì, poi vedremo anche questo discorso declinato rispetto a quello che sta succedendo in Australia, brucia da quattro mesi l'Australia e anche lì ci sono state molte polemiche. Vado a qualcuno, ma questo insomma è legittimo, quando si parla di sostenibilità ambientale viene la pelle d'oca, nel senso che ci si riempie la bocca di tutto questo, però poi bisogna che ci siano atti anche qui concreti. Lo dico perché per esempio penso ai Fridays for Future, noi tanti, i milioni di giovani che hanno manifestato e continuano di restare, ma mi pare se consideriamo quello che è successo a Madrid, insomma qualche settimana fa sono stati totalmente inascoltati dai governi o no? Cominciamo a mettere in ordine un po' il discorso. Il cambiamento climatico è in atto, le cause di questo cambiamento climatico non sono più in discussione, salvo critiche marginali di alcuni piccoli settori e cioè sono le emissioni di gas serra generate dall'uso ancora massiccio di combustibili fossili, segnatamente carbone, petrolio e gas. Per mitigare, cioè impedire che questa crisi climatica abbia esiti ancora più catastrofici, gli studi scientifici, e sono ormai tanti, in particolare quelli coordinati dall'IPCC, che è un panel internazionale al quale partecipano 3.000 scienziati indicati dai governi, questo panel dice attenzione che se dovessimo sforare i due gradi di aumento globale della temperatura, innescheremmo delle reazioni a catena non più controllabili. L'aumento già provocato, già misurato è di un grado e stiamo rapidamente avvicinandoci con una velocità maggiore di quello prevista anche solo dieci anni fa alla soglia di questi due gradi terribili. Cosa si può fare? Si può fare molto, si può fare molto e si sta facendo anche parecchio, non abbastanza, ma non è che non si sta facendo niente, perché c'è una rivoluzione energetica in atto importantissima. Venivano citate anche grandi aziende, in Italia c'è l'Enal, che hanno adottato strategie di decarbonizzazione totale. Decarbonizzazione vuol dire rinunciare ai fossili, vuol dire basare il proprio business industriale esclusivamente su rinnovabili, non solo solare, la gamma delle rinnovabili per fortuna è molto ampia, e sull'efficienza energetica. Ma non c'è solo il cambiamento dell'energia in senso stretto, c'è un grande cambiamento nel settore della mobilità dei trasporti. Per esempio l'auto elettrica, che veniva giudicata fantasiosa solo dieci anni fa, si sta imponendo come tecnologia nelle grandi case automobilistiche. L'auto ibrida, che è una via intermedia, comunque riduce le emissioni specifiche, quindi anche questa è un contributo transitorio, e si riprende finalmente la sperimentazione concreta sul l'utilizzo dell'idrogeno, che è un vettore energetico, però è molto utile nella possibilità di utilizzo di energia concentrata. Abbiamo grandi cambiamenti sul modello economico, dal modello lineare al modello circolare, ed è una rivoluzione tecnologica. E un potenziale e già in atto contributo importante della digitalizzazione. C'è una connessione diretta fra diffusione della digitalizzazione, efficienza e riduzione di efficienza energetica. Però lei ha fatto bene a darci questa cornice generale. Quindi il quadro è di un grande cambiamento in atto. Grande cambiamento in atto che però... Che la velocità di questo cambiamento non è ancora sufficiente a fronte della rapidità del cambiamento climatico. E a fronte anche di paesi come la Cina, come l'India, come gli Stati Uniti, che sono dei giganti e che non mi pare siano così avviati verso questo percorso virtuoso. Gli interessi dei combustibili fossili e delle economie più legate ai combustibili fossili sono ancora forti. E condizionano le conferenze internazionali, come la conferenza di Madrid. Però c'è anche qualcosa di nuovo, prima della Coppa di Madrid e dopo. C'è un gruppo di paesi e all'interno dei paesi che frenano, per esempio gli Stati Uniti, vi sono delle forze importanti che si stanno muovendo comunque in direzione della neutralità carbonica, guidati o con un ruolo di rilievo dell'Europa. Perché oggi la decarbonizzazione è economicamente possibile, non costa tantissimo e ha anche dei vantaggi economici. Quindi è aperta anche una sfida economica fra la vecchia economia basata sui fossili e la nuova economia decarbonizzazione. Questo li coinvolgo il sottosegretario.